Da oltre 20 anni il progetto del polo bibliotecario alle scuole Pascoli di Bolzano è bloccato per questioni burocratiche e giudiziarie. Nel frattempo è cambiato. Oltre a tre biblioteche ospiterà infatti il centro per l'autonomia. Contro il progetto interetnico si schierano però gli Schützen. Floriana Gavazzi. Non solo una sede unica per le biblioteche Tesman, Claudia Augusta e Civica di Bolzano. Negli spazi comuni dell'edificio di Via Longon sorgerà un avveniristico centro per l'autonomia con sale interattive e giochi di ruolo per aiutare a riflettere su storia dell'autonomia altoatesina, tutela delle minoranze nel contesto internazionale e sviluppi futuri. Il motto sarà United in Diversity, uniti nella diversità. Il progetto, ha spiegato il presidente Compatcher, è stato elaborato da un gruppo di lavoro coordinato dallo studio di architettura Atelier Brückner di Stoccarda e dall'Eurac. Presente oggi a Bolzano anche il rappresentante speciale delle Nazioni Unite per le questioni delle minoranze, Fernand de Varenne. C'è un aumento visibile dei conflitti all'interno degli stati, soprattutto perché le minoranze si sentono escluse e discriminate. L'autonomia dell'Alto Adige può essere uno strumento per rispondere alle rivendicazioni delle minoranze e includerle in modo equilibrato per evitare che questi conflitti perdurino. Ora si spera non ci siano altri intoppi burocratici. Se ci accorderemo con gli interlocutori, sicuramente nel 2023 salderemo il via alla fase progettuale definitiva e per il 2024 dovrebbero iniziare i lavori. Che finiranno? Che finiranno dopo due o tre anni.